Sono i 20 giovani selezionati per studiare alla Gioiella Academy, un progetto messo a punto dall'Istituto di Formazione IFOA con l'Istituto Tecnico Galilei di Gioia, il Politecnico di Bari e l'azienda Casearia Capurso che li formerà per inserirli nel processo produttivo. Noi sostanzialmente abbiamo necessità di trovare delle figure professionali che innanzitutto vogliano sposare a pieno la mission di Gioiella, trovare dei ragazzi che siano fortemente motivati nell'intraprendere un nuovo percorso di attività lavorativa in un settore che vede come aspetto trainante negli ultimi anni quello dell'agri-food nella regione Puglia. L'Accademia di Gioiella utilizza quello che ormai sta diventando per IFOA un progetto stabile cioè quello di avviare percorsi con il sistema duale e quindi le risorse di cui hanno bisogno le aziende vengono selezionate, fatte scegliere dall'azienda che al reale fa bisogno di risorse da assumere, vengono assunte dal primo giorno e fanno corsi di formazione e lavoro. È la seconda edizione di Gioiella Academy che coinvolge i giovani del territorio pugliese con gli obiettivi di formare figure specializzate indispensabili per la crescita delle aziende e combattere la dispersione scolastica. Grazie soprattutto all'apporto di Gioiella, 20 ragazzi avranno la possibilità di inserirsi nel tessuto sociale importante come quello di Gioiella del Colle legato naturalmente al nostro prodotto più importante ovvero la mozzarella.